Alla partenza del Gran Premio Pescara, Taruffi è sereno e non prevede che sarà per lui una giornata di grossa scalogno. Sì, dall'inizio del veloce carosello, si piazza in testa i voli di Vera al volante della sua Maserati, col numero 66. Sul difficile percorso che costringe nella sinuosità delle curve a rallentamenti improvvisi dopo l'ebbrezza dei 200 all'ora sui rettilinei, il peota francese domina gli avversari e la corsa. Ma sottoposta nella grande calura, con timi ed eccessivi sforzi, la vettura lo tradisce e lo costringe a ritiro. L'Andron con la Gordini numero 32 non pensa che sta per scoccare per lui un'insperata ora di gloria. Siamo alla fine e Taruffi con il numero 68 è in testa e sembra un tranquillo vincitore. Ma anche lui viene tradito da noie meccaniche. Sul rettilineo finale Manzon brucia Taruffi di pochi metri proprio sul traguardo. Brindisi con acqua fresca per Manzon.